La strategia da tenere a mente quando approcciamo a questi contesti è che fare marketing serve a creare delle relazioni di qualità, se tu hai delle relazioni di qualità, allora poi quando matureranno nel tempo, per questo serve stare online, per creare delle relazioni di qualità, le relazioni di qualità nel tempo maturano e daranno i loro frutti. E allora come ottenere quello che vuoi sul web? Allora diciamo che se tu vuoi più clienti nello studio, vuoi più voti per diventare vicepresidente dell'Ordine di Psicologia Lombardia, vuoi vendere di più la tua rivista Psicologia Contemporanea, vuoi più interazioni perché poi fai vedere che hai una community più grande e vendi gara alla tua pelle quando ti offrono un contratto editoriale, tutto parte sempre da qua, dalla fiducia, cioè il compito del web marketing è di riuscire a creare delle relazioni di fiducia con le persone che sono intorno a noi. Cos'è la fiducia tradotta online è questo, dare valore per tanto tempo, tu devi dare valore alle persone per tanto tempo e allora loro dopo un po' si fideranno di te e se si fidano di te allora poi acquistano, allora poi ti scelgono, allora poi ti votano, allora poi vengono a curiosare com'è la nuova rivista di Psicologia Contemporanea, altrimenti non lo fanno, la fiducia si costruisce nel tempo, ci vuole tempo, online ci vuole ancora più tempo che in una relazione vis-à-vis normale, la fiducia è alla base delle scelte di acquisto, quando voi dovete andare in un ristorante andate su TripAdvisor, vi fidate di uno sconosciuto tra l'altro che lascia una recensione e magari gli piacciono i peperoni quando a te, come nel mio caso, non ti piacciono, poi lì te la vedi, però il tema è questo, noi dobbiamo lavorare per avere la fiducia delle persone e allora, visto che la fiducia significa dare valore nel tempo, il tempo sappiamo come è fatto, tutti quanti abbiamo 24 ore nell'arco, è democratico il tempo, ma il valore come si dà? Per dare valore devi partire dall'ascolto, noi siamo formati in teoria per ascoltare, il problema è che alcuni ascoltano tantissimo, ascoltano troppo quando sono sul lettino in seduta, però poi se c'è da promuoversi online dimenticano questa roba qui e switchano sull'altro canale, quindi l'ascolto cosa vuol dire? che devi comprendere i bisogni delle persone, prima di tutto, prima di creare un contenuto, tu devi capire che cosa il tuo target vuole, di che cosa ha bisogno, cosa non lo fa dormire la notte, quali soluzioni sta cercando e poi nel limite del possibile devi cercare di fornirle, in che modo ascolti? Beh ci sono un sacco di strumenti oggi online, puoi inviare una newsletter a dei tuoi iscritti o agli iscritti di un'altra persona, simili a te, puoi andare sui forum ad ascoltare le conversazioni, puoi fare dei sondaggi online, eccetera, eccetera, eccetera. Solo una volta che hai compreso le esigenze, non quando pensi di sapere quello che gli altri vogliono, ok, ma quando hai messo a fuoco quello che gli altri vogliono, allora prepara dei prodotti di valore che diano loro una risposta.